A terra, senza vita, lungo il ciglio del vialetto che porta a casa sua. L'ha trovato lì la madre, all'alba di sabato, quando non vedendolo rincasare per la notte, ha iniziato a cercarlo. Achille Minatel, 47 anni, operaio, residente con i genitori a Praturlone di Fiume Veneto in provincia di Pordenone, era in un lago di sangue, esanime, sul corpo, molti colpi, come se fosse stato preso a calci e pugni da qualcuno che poi lo avrebbe finito con una botta alla testa. L'ipotesi di un omicidio maturato al termine di una lita è quella che prevale per le lesioni trovate sul corpo, anche se magistrato e comandante dei carabinieri di Pordenone intervenuti non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Va analizzato meglio il contesto in cui è scaturita questa morte. Minatel si era allontanato da casa venerdì pomeriggio alle 16, al bar del paese è stato ritrovato il suo scooter, segno che forse aveva passato lì le ore prima della sua morte, quando la madre ha trovato il corpo, era senza scarpe. Grazie.